Per la crema pasticcera ci occorreranno mezzo litro di latte, 100 g di zucchero, 2 uova, 50 g di farina tipo 00, una bustina di vanillina, della scorza di arancia o della scorza di limone. Ecco la nostra crema pasticcera che ho precedentemente preparato. Dal momento che avevo questi biscotti da consumare e non essendo una bravissima pasticcera faccio la torta pasticciona. Questi sono dei magretti della galbusera quasi senza zucchero che ai miei bambini non sono piaciuti. E questi sono dei biscograno della mulino bianco che anche questi non sono piaciuti. Quindi cercherò di adoperare questi biscotti camuffandoli con della crema pasticcera in maniera tale da farglieli mangiucchiare. E così ho pensato di fare questa torta pasticciona per chi come me non è bravo a fare i dolci. Mettiamo uno strato di biscotti, dopodiché lo ricopriamo con la nostra crema pasticcera al cioccolato che precedentemente ho separato. Ne ho lasciata metà neutra e metà ho incorporato del cacao amaro. Così facciamo questa torta pasticciona bicolore. Semplice, velocissima, pronta in 5 minuti. Ora mettiamo lo strato di magretti e andiamo a mettere sopra la base bianca. Quindi primo strato cioccolato, secondo strato crema pasticcera bianca e poi ultimeremo con un ultimo strato di cioccolato. Diciamo che dovrebbe essere apprezzata dai bambini visto che la crema pasticcera è deliziosa, la crema pasticcera al cioccolato ancora di più. Quindi spero di riuscire questa sera a fargliela mangiare. E sarà ancora più buona domattina perché avrà riposato ancora di più. E le torte sono sempre più buone il giorno dopo. Ecco, diciamo che questa non è una torta, ma un salva che non lo so, salva in calcio d'angolo chi non sa preparare dolci, dai, diciamola così. In compenso ho mia sorella che è una bravissima pasticcera. È una number one, non sembriamo affatto sorella, perché lei, io la chiamerei mani di fata. Lei è super super brava, davvero. Tutto quello che tocca lo fa diventare una magia, super brava. Ed è anche bravissima a cucinare, non solo la pasticceria, ma anche primi, secondi, contorni, antipasti. Ha davvero una dote innata. Se vi va e volete andare a visitare il suo canale, potete trovare Francesca87. Allora, abbiamo ricoperto la crema pasticcera con l'ultimo strato di biscotti. E ora andiamo a mettere l'ultima parte di crema al cioccolato. Dopodiché andremo a far riposare in frigo per tre ore. Dopodiché potremo servire il nostro dessert, o semi freddo, che dita potrebbe andare. Diciamo dessert, il nostro dessert. Ora vado a decorarla con della scorzetta d'arancia. La scorzetta d'arancia l'ho ricavata con il pela patate, così non ho tirato via anche la parte bianca. E andiamo a mettere questo dolcetto in frigo. Ci vediamo più tardi per la prova a stagio. Vi ricordo che questa è una torta pasticciona per chi, come me, a fare dolci. E' una gran pasticciona, che avrebbe tanta tanta voglia di prepararli, ma poi è negata. Io preferisco cucinare il salato anziché il dolce, vi dico la verità. Ora vado a riporre la nostra tortina in frigo. Ci vediamo più tardi. Baci! Eccoci qua. Ho appena tolto la nostra torta pasticciona dal frigo. Direi proprio che è una torta pasticciona. Mi scuso se non ha una bella presenza, ma non sono brava a fare dolci. Ma la sostanza è quella che conta. Ora andremo ad aprire la nostra torta. E' abbastanza morbida. Ed eccola qua. La torta pasticciona. Adatta a chi non sa fare i dolci. Veloce, semplice e gustosa. Facciamo la prova assaggio. Et voilà! Chiedo scusa per le luci. E vai con l'assaggio. Ops, mi cade. Ah! Sì, dai! E' deliziosa. Non sarà una torta da grandi pasticceri, ma io non lo sono. E chiedo scusa a tutti i pasticceri d'Italia. E non solo. Ma è per questo che l'ho chiamata torta pasticciona. Perché io sono una pasticciona. Buona serata, buona cena e buonanotte!